Buonasera, buonasera a voi. Allora, in questa settimana abbiamo sentito invocare tutti i giorni con forza le dimissioni del ministro degli interni piantedosi. Tra l'altro non è neanche la prima volta che vengono richieste queste dimissioni. Questa volta è per i fatti che sono accaduti a Cutro con il naufragio sulle spiagge crotonesi che è costata la vita ad oltre 70 persone, tra cui molti bambini. Diciamo che insomma è diventato un po' un'abitudine da parte della sinistra, ma vorrei per obiettività sottolineare che in passato questo l'ha fatto anche il centrodestra, di invocare il ministro di turno che magari compie delle azioni che non ci piacciono o semplicemente perché in qualche modo bisogna strumentalizzare tutto quello che avviene in Italia. E questo io ritengo che da ambo le parti, dal mio punto di vista, sia inaccettabile. Ecco perché finalmente bisognerebbe perlomeno arrivare ad una certa coerenza. E allora mi rivolgo proprio alla neosegretaria Elie Schlein che è stata una delle primissime a chiedere le dimissioni di piantedosi. Alla stessa maniera, se non molto di più adesso vedremo perché io sono di questo punto di vista dovrebbe chiedere l'allontanamento, perché non essendo lui ministro non può dare le dimissioni, ma l'allontanamento come parlamentare da parte dell'ex ministro della Sanità Speranza. Perché dico questo? Perché in questi casi addirittura noi abbiamo un pubblico ministero che ha scritto dei capi di imputazione pesantissimi anche, a speranza non solo, perché sono 19 gli indagati e io vorrei ricordarveli questi capi di imputazione. Epidemia colposa aggravata, omicidio colposo, plurimo rifiuto di atti d'ufficio è falso. Capite? C'è veramente capi di imputazione gravissimi. E d'altronde la sinistra, e in questa appoggiata molto anche da parte dei 5 Stelle, ha sempre in questi casi ritenuto opportuno che il soggetto in questione desse per opportunità le dimissioni, perché era quasi un atto dovuto. Questo almeno è quello che ci avevano fatto credere nel passato sia il Movimento 5 Stelle ma anche il Partito Democratico. E invece devo dire grande delusione da parte di Eli Schlein che intanto, almeno io personalmente, non so voi, magari mi ha sfuggito per carità, non ho sentito neanche un commento da parte di Eli Schlein sulla gravità delle accuse che vengono mosse ad uno che è iscritto al suo partito, cioè speranza. Nulla di tutto questo. E tra l'altro, ripeto, una questione piuttosto delicata, perché si parla in questa circostanza anche di aver causato migliaia di morti che potevano essere evitati. Ora, per carità, io sono garantista, non è stato mica condannato, speranza. Però in passato questo non valeva alla stessa maniera per esponenti del centro-destra che erano così caduti sotto il mirino dei magistrati. Ricordo, ad esempio, per tutti l'ex ministro degli interni Salvini, che tra l'altro sta per essere sicuramente assolto anche per quanto riguarda la Gregoretti, così come è stato assolto in passato in altre questioni. Perché, ripeto, è tutta una questione di strumentalizzare la politica, tra l'altro con scontri durissimi, che credo e mi auguro tutti i cittadini non condividano, che arrivi da una parte o dall'altra, perché i cittadini vorrebbero finalmente che ci fossero delle politiche a loro vantaggio. E invece vediamo che questo non avviene. Ma tornando all'amico Speranza, io credo che siccome sarà difficile che lui realmente paghi, io ho detto di essere fiducioso rispetto a quello che ha intrapreso la procura di Bergamo e io credo che rispetto al passato ci siano delle possibilità che i 19 indagati paghino. Poi bisogna vedere con quale tipo di entità. Non fosse altro che da un punto di vista anche politico sarebbe già importante. Però è ancora più importante chiedere che un soggetto come Speranza, ma anche Conte, vengano allontanati dal Parlamento. E questo, al di là della magistratura, io credo che dobbiamo farlo noi. Cioè, io quello che accetto poco in questi ultimi mesi è il fatto che tutto questo mondo dei no-vax, dei no-greenpass, sia completamente sparito dalle piazze. Quando invece questo dovrebbe essere il momento di fare pressione per ottenere le condanne di coloro che si sono macchiati di crimini orrendi. E non possiamo solo pensare di lasciare questo compito alla magistratura perché sappiamo perfettamente in Italia come funzionano queste cose. Quindi io mi augurerei che finalmente si torni nelle piazze, si torni a Roma davanti ai palazzi a chiedere le dimissioni di questi soggetti. Staremo a vedere se qualcuno raccoglierà questo mio invito. Intanto l'invito, ripeto, lo faccio ad Elislein, non fosse altro per coerenza rispetto a quello che lei sta chiedendo per quanto riguarda il ministro degli interni Piantedosi. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.